Angelo Ciocca, presidente della Commissione Attività Produttive, che oggi in un'audizione si è occupato di sagre, che devono essere regolamentate in che modo? È importante porre l'attenzione su un problema reale, cioè esistono in alcuni territori della Lombardia alcuni momenti che in realtà non hanno uno scopo benefico, di volontariato, di utilizzo per il territorio, ma sono elemento di business di privati. Non è pensabile che una sagra porta un business di un privato a discapito di un negoziante, di un bar, di un ristorante che tutti gli anni è sottoposto a numerose tasse, soprattutto quelle nazionali. Noi vogliamo assolutamente che vengano difese e valorizzate le sagre, le feste, quelle che hanno una finalità utile al territorio, una finalità benefica, una finalità importante per la società e vogliamo assolutamente azzerare quello che oggi sono invece quelle sagre, quelle feste, finalizzate solo al business di pochi privati. Questa è un'azione che vogliamo fare, sappiamo che è un'azione delicata, è un'azione che vogliamo fare assieme ai comuni, assieme ai sindaci, è un'azione che vogliamo fare assieme ai commercianti, è un'azione che vogliamo fare assieme alle associazioni di categorie. Siamo certi che confrontandoci in modo importante con il mondo reale potremo arrivare a stendere un testo di progetto di legge importante da portare poi in aula del Consiglio e poter approvare per normare finalmente un tema importante che all'ingiustizia tra chi senza pagare tasse oggi fa feste e soprattutto fa business a discapito di chi oggi invece le tasse le paga. Un'altra questione riguarda i call center, è passata una mozione in Consiglio proprio pochi giorni fa, cosa chiedete? Questo è un tema gravissimo, un tema importantissimo, un tema su quale bisogna intervenire con una forte azione di pronto soccorso e noi agiremo nei confronti del governo proprio per un provvedimento legislativo, oggi rischiamo di perdere 80.000 posti di lavoro in Italia perché il costo della manodopera dei call center di tutta la manodopera in Italia porta a questo costo eccessivo i call center a delocalizzare il servizio, delocalizzare in altre parti del mondo dove la manodopera costa nettamente meno. Noi cosa vogliamo fare? Vogliamo fare in modo di costruire un provvedimento che obblighi le multinazionali a dare il servizio di post vendita sul territorio. Non è pensabile che una multinazionale venda in Lombardia un prodotto, spremi il nostro territorio sotto l'aspetto commerciale quindi aggredisca il nostro territorio sotto l'aspetto della vendita e poi non tenga sul territorio invece tutto quello che è il tema del post vendita. Le multinazionali devono assolutamente dare il post vendita e quindi anche il servizio di call center sul territorio quella ricchezza, quell'occupazione va mantenuta assolutamente sul territorio con una norma europea e con una legge nazionale che imponga questo.